La Reggio Ravagnese di Mister Misiti vince questo scontro di alta classifica contro il Soriano, 1-0, decisivo il gol del giovane Battaglia, una partita con occasioni ma neanche tante da ambo le parti, sicuramente c'era anche tensione perché era un match importante, manca peraltro una sola giornata a fine anno perché poi ci sarà un'altra giornata settimana prossima, il Soriano avrà anche la Coppa mercoledì ed eventualmente anche la finale però diciamo che sia quasi arrivato ormai a fine anno e Reggio Ravagnese che con questa vittoria sarà la 27, Soriano fermo al quinto posto a 21 e vede la vetta sempre più allontanarsi, peraltro Soriano che andrà ad Isola settimana prossima dopo per l'appunto il ritorno di Coppa, della semifinale, mentre la Reggio Ravagnese va giogli a Tauro, una trasferta comunque insidiosa e quindi diciamo che è un periodo abbastanza delicato per entrambe le formazioni. Come detto un primo tempo e partiamo da qui poi affronteremo successivamente le due fasi di possesso, le due ricerche che hanno provato le due squadre con la palla, un primo tempo in cui Soriano ha provato a partire dal basso, a destra in particolare, per uscire con le qualità di Salvador, con anche il lavoro di Cabrera perché Cabrera è tatticamente molto intelligente, si inserisce, sa anche scalare tra i centrali quando c'è da difendere, sa anche comunque lavorare dentro al campo in ampiezza, con una buona gamba, un giocatore abbastanza importante e poi l'idea era quella, credo, di chiudere l'azione a sinistra con un esterno bravo ne uno contro uno a campo aperto come Etus e un terzino di spinta come Gioffre. Un reggio rabagnese che ha cercato spesso la palla sopra a Gioffre, quindi sulla corsa di De Leon, e il fraseggio a sinistra con le qualità di Crucitti che qualche volta si apriva anche in ampiezza, comunque veniva a legare il gioco e dava ovviamente pochi punti di riferimento. Un primo tempo con poche occasioni sono andato su qualche palla inattiva, tra l'altro per quanto riguarda le palline attive la reggio rabagnese ha difeso sugli angoli a uomo e sulle punizioni laterali fondamentalmente a uomo ma con una linea molto alta, credo, per fare il fuorigioco, però si poteva sfruttare meglio perché questa linea alta comunque è abbastanza attaccabile. Infatti diverse volte sono trovati da soli i calcettori del Soriano ma senza poter poi colpire la palla perché giustamente non gli è arrivata, un Soriano che ha difeso a zona sia sugli angoli, con questo 5-3, sia sulle punizioni laterali. Peraltro vi ricordo la reggio rabagnese ha difeso 4-2-3-1 fondamentalmente, con un baricentro anche devo dire alto, quindi anche qui le eventuali palle sopra potevano essere pericolose. Soprattutto è una squadra interessante anche perché sulle rimesse dal fondo avversarie, quindi quando il Soriano partiva dal basso, su palla laterale andava uomo su uomo, con puntoliere che andava a prendere la mezzala, quindi si scivolava lato palla uomo su uomo, però non con grande intensità, tanto che quelle due volte, due o tre volte in cui il Soriano è partito da destra, dal basso, e poi uscito arrivando fino alla metà campo avversaria, quindi quel scivolamento andando uomo su uomo non ha particolarmente funzionato. Però squadra che, ripeto, tiene un baricentro molto alto, a differenza di un Soriano che difende 4-3-3, ma squadra che in non possesso ha un baricentro leggermente più basso, ovviamente Fioretti come riferimento avanzato, e tra l'altro è interessante che in zone basse l'esterno posto alla palla, quindi spesso e volentieri erano in primo tempo per esempio Etus, rimaneva un po' più avanzato rispetto all'esterno di parte che, rispetto a dove era la palla, ovviamente doveva difendere maggiormente. Nel secondo tempo la partita subito si stappa con il gol di battaglia, con un'azione che nasce a sinistra, con Balde che salta il diretto avversario, ovvero Massias, mette questo cross in mezzo per battaglia che fa un gran gol, perché la stoppa di sinistro, palla che resta incollata a dove? Al piede, diciamo, e poi si gira in veramente una frazione di seconda, segna di destro, quindi stop di sinistro, gol di destro, ottima anche girata, veramente gran gol, un battaglia comunque dopo il gol ha preso fiducia, molto più coinvolto, la legge navagnese in questi 15-20 minuti iniziali ha prodotto diverse occasioni con Lisi che ha fatto buoni interventi e un ottimo battaglia nel controllo palla, nel farsi trovare nei passaggi, poi ha avuto anche un'occasione finale importantissima a Balde all'ottantesimo, un Soriano che poteva fare meglio, credo, sulle palle inattive, ma alla fine si chiude così, con la legge navagnese che difende a 5 nel recupero e un finale poi di partita abbastanza nervosetto. Vediamo quindi insieme la costruzione della legge navagnese, poi faremo quella del Soriano, prima però vi ricordo le formazioni, perché prima non ve le ho riportate, Currà in porta per la legge navagnese, Maesano, Zuccalà, Urruti, Scoppetta, Cordova, De Leon, Puntoriere, Baldè, Crucitti e Battaglia. Soriano con invece in porta Lisi, Massias, Gioffre, Clasadonte, Dascoli, Baggini, Staropoli, Cabrera, Fioretti, Salvador e Etus. Quindi, regge navagnese che ha costruito in questa maniera con un 2-4-1-3. Molto interessante il fatto che la squadra fraseggi tanto, con soprattutto in realtà puntoriere molto coinvolto, i terzini partono tendenzialmente in linea, anche se in realtà spesso uno dei due è un po' più avanzato rispetto all'altro, comunque pronti a accompagnare lato palla l'azione. Il lavoro dei centrocampisti è fondamentalmente a compasso, perché non sono in linea piatti, ma uno è un po' più arretrato e l'altro lavora un po' più avanzato e spesso, diciamo, era puntoriere che veniva a prendersi palla o comunque Urruti, si scambiavano spesso questo tipo di ruolo, diciamo così. Ed è importante il lavoro di Crucitti, perché se a destra la squadra cercava spesso queste palle sopra il terzino sulla corsa di De Leon, a sinistra invece si giocava sì con qualche palla su Baldè, ma più che altro si ricercava il fraseggio con Crucitti che lavora tra le linee, Crucitti che non sempre veniva preso da Clasadonte, che lavorava più, diciamo, a schermo davanti alla difesa, piuttosto che a seguire a uomo a tutto campo per l'appunto Crucitti, che quindi aveva un po' più di libertà nel venire incontro, nel legare il gioco e quindi giocava più in questa posizione qui, battaglia riferimento centrale, ma nel primo tempo ha toccato pochissimi palloni, poi dopo il gol ha preso un po' più di fiducia ed è stato più, come dicevo prima, coinvolto. Tal'altro, altro aspetto interessante è che negli ultimi metri accompagna anche uno dei due registi, oltre a riempire l'area con quelli in avanti, anche uno dei due registi può andare ad accompagnare invadendo l'area di rigore avversaria, che è comunque un aspetto sempre interessante. Il Soriano, invece, costruiva in questa maniera qui, con questo 2-3-2-3, fondamentalmente. Tal'altro, se la regia ravagnese ha i due esterni d'attacco, che entrambi sono destri di piede, sia Baldè che Deleon, quindi non giocano a piedi invertito, anche il Soriano ha due esterni che non giocano a piedi invertito, perché Salvador è destra e gioca a destra, e Detus è sinistro e gioca a sinistra. Questo è interessante perché spesso gli esterni magari sono a piedi invertito, ma ecco, non sempre come oggi si è visto. Ovviamente fondamentale in costruzione è Clasadonte, che è il regista, il play che spesso si abbassava anche tra i due centrali, e importante il lavoro sulla catena di destra, come dicevo in apertura. Perché? Perché si apriva tantissimo, giustamente, l'esterno di parte, che era Salvador, che ha qualità, ha dreaming nello stretto, un giocatore importante. Veniva anche incontro Fioretti, spesso e volentieri, con Etus, che era un po' più largo, perché poi l'idea era quella di cercarlo in uno contro uno, con la sovrapposizione di Gioffre, che poteva accompagnare. E importante anche il lavoro di Cabrera, Cabrera che poteva inserirsi verticalmente, lavorava qui in appoggio, giocatore comunque importante, con anche attenzione a Staropoli, che si faceva trovare poi tra le linee. Quindi a livello tattico la squadra lavora bene sulla catena di destra, con idee, secondo me, interessanti. Quindi, certamente, dal punto di vista tecnico, si poteva anche fare meglio, per quanto costruendo dal basso, ripeto, su questa catena qui, qualche volta nel primo tempo la squadra è anche uscita dalle pressioni avversarie, e ripeto, poteva gestire meglio, forse in fase di, nella zona di sviluppo. Quindi questa zona di campo qui si poteva fare qualcosa in più, maggior qualità in quella zona lì, però ci può stare, ragazzi, comunque siamo giustamente in eccellenza. Comunque, io mi fermo e vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti!